Una vera ecatombe di alberi distrutti o sradicati dal peso della neve. La conta dei danni inferta dalla rasoiata artica è appena iniziata. Danni non solo per colture reteviarie, ma anche per le essenze arboree che hanno subito danni irreversibili. È il caso soprattutto nella città capoluogo e a Termoli. Un terzo degli alberi è stato decimato in maniera irreparabile a Campobasso. Da oggi le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel tagliare i rami pericolanti e rimuovere le carcasse di tronchi che si sono abbattute su strade e marciapiedi in una città ancora fortemente colpita dalla furia della neve caduta nella giornata di giovedì. Una falcidiata che non ha risparmiato la collina Monforte, la villa comunale San Giovannello, teatri questi di pesanti decimazioni per pini e cipressi. In tutta la regione dopo la fase di emergenza occorre un serio piano di prevenzione e manutenzione del verde arboreo. Intanto la totale incuria e l'abbandono dell'area produttiva di Pietracatella ha toccato il fondo. L'area pippe è completamente allagata per le attaviche carenze alla rete fognaria e l'assenza di un sistema di scolo delle acque piovane. Conto salatissimo per le attività artigianali e industriali del posto. In questa fase le due amministrazioni provinciali non riescono più a garantire i servizi minimi per cittadini automobilisti. L'interruzione dell'unico ingresso per Fossalto mette in evidenza la criticità della situazione, ma frane e smottamenti si segnalano su buona parte delle arterie molisane. Gli enti province sono al collasso, il grido di dolore lanciato al Governo nazionale. Il peggio in ogni caso è alle spalle e il quadro climatico è in lento miglioramento. Le forze dell'ordine vigilano sul corretto deflusso delle acque dei fiumi Biferno e Trigno e dell'invasso di Guardia Alfiera, al limite delle sue capacità. Scuole ancora chiuse oggi in alcuni comuni di montagna e del cratere sismico.